Il sogno di ogni donna, credo, secondo sulla mangiare senza ingrassare, è sicuramente quello di avere un seno bello e sodo, della misura desiderata e possibilmente in armonia con il proprio corpo. Il problema molto spesso, però, è che per ottenere tutto ciò, l'unica soluzione sembra essere il chirurgo, che con un bel intervento riesce a farvi ottenere il vostro seno dei sogni. Vista tutta questa grande attenzione che viene rivolta verso il seno dei media, sembra che il seno sia la grandezza e la miseria di una donna e di conseguenza molte donne se lo guardano in continuazione, se lo toccano per escludere che stia diminuendo di tono, che stia crollando e allora si deve rinforzare, tornire, aumentare o diminuire e lo costringono dentro camicie di forza che lo mostrano perfetto e desiderabile, almeno da lontano. E come si definisce la perfezione? Nessuno lo sa, però avvertiamo se un seno è da favola, se fa impazzire o se diventa un peso attaccato al petto, un mattone indigesto sullo stomaco. Il seno deve essere caldo, sostenersi per la perfezione delle forme, deve essere accarezzato e non volgarmente palpato, perché non si deformi. È il luogo dei veri amanti, quelli che lo vedono come un mondo intero sulla superficie di una donna. Deve essere ben disegnato, deve poter accogliere e contenere le carezze che qui si nascondono e a volte persino qui scompaiono, come protette da due vette. Di conseguenza nessuna donna potrà mai essere soddisfatta del seno che ha. E non c'è chi non ne desideri uno almeno un po' diverso. E così se lo stringe delicatamente, se lo guarda allo specchio, di fronte e poi di lato, e poi vederlo anche dall'alto. È la donna stessa che lo rende un mondo intero sulla sua superficie. Così da qui nascono i confronti con le amiche, con le figlie, con le veneri e con i modelli della tv, dei giornali e di internet. Un confronto mai finito e mai fine a se stesso. Mi chiedete spesso di avere un seno che possa soddisfare tutto quello che intimamente non mi dite mai, che per timore o pudore non esprimete, ma agli occhi della mia esperienza vi leggono dentro. Vi ho viste mutare dalla notte al giorno, dalla notte dell'insoddisfazione al giorno della sicurezza e della felicità. Tutto è cambiato di conseguenza e anche voi siete cambiate. Avete intrapreso nuovi percorsi. Ed io tutte le volte mi meraviglio e non mi capacito della potenza di questo messaggio, di questo mondo che portate sulla vostra superficie. La vostra felicità è anche la mia. Vi ho viste piangere e avrei pianto anch'io con voi. La parte più emozionante del mio lavoro è questa, la vostra soddisfazione, i vostri sguardi, le vostre lacrime. L'anno appena trascorso è stato denso per tutto ciò, per la consapevolezza, per la complicità, per la soddisfazione, per l'intesa, per il feeling. Ed è proseguito fino ad oggi, in questo momento difficile dove vi ho ritrovate, dove mi avete gratificato delle vostre emozioni.